Ciao a tutti, io sono Rosy di Parrucchieri Revolution e mi occupo di salute e bellezza del tuo capello. Insieme al mio socio Paolo ho scritto un libro, Revolution Way, come avere capelli belli e sani, sempre a casa, anche fatti da te. Tutti i nostri consigli, tutti i miti da sfatare sul capello. Oggi, ultimo giorno del mese, un riepilogo, un sunto di tutto quello che abbiamo detto in questo mese. Abbiamo parlato del taglio, del perché non ti stanno a posto i tuoi capelli, del perché ti hanno fatto quel taglio di capelli e non ti sta bene. Non riesci mai a sistemarteli da sola, quando li lavi, quando lavi la tua cute, quando lavi i tuoi capelli, te li asciughi e non riesci mai a sistemarli, non riesci mai a essere in ordine. Hai troppi capelli e per ovviare a questo problema, cosa hanno fatto? Ti hanno fatto un taglio, te li hanno alleggeriti tantissimo con il rasoio e poi ti ritrovi con un pulcino in testa, con due peli che non stanno più da nessuna parte. Ti hanno semplicemente fatto un taglio di capelli, non ti hanno creato un look. Non hanno volume, i tuoi capelli non hanno volume. Adesso ti faccio una domanda. Se rientri in una di queste problematiche, poi ce ne sono tantissime altre che abbiamo elencato in tutte queste dirette del mese, ma se hai risposto sì è vero, ho questo problema in una di queste cose che ti ho appena detto, allora guarda tranquillamente questa diretta oppure vai a rivedere le nostre dirette. Sono tutte caricate sia su YouTube che chiaramente su Facebook e le trovi anche alcune su Instagram. Adesso abbiamo fatto anche il canale TikTok, ve lo vuoi dire. Nuova nuova chicchina. Vabbè, comunque riprendiamo la nostra diretta. Perché ti succede questo? Perché tutte queste problematiche per un semplice taglio di capelli tu dirai semplice no taglio di capelli sì innanzitutto prima regola per tagliare i capelli per tagliare i capelli usare sempre forbici a lama piena quindi se noti che il tuo parrucchiere non utilizza forbici a lama piena non farti tagliare i capelli perché alcune di queste problematiche sono proprio date dall'uso di attrezzatura sbagliata. cosa voglio dire attrezzatura sbagliata forbici dentate sfilzini sfoltitrici creano alcune di queste problematiche quindi forbici a lama piena la graduazione la struttura del taglio un taglio creato sui tuoi lineamenti sulla tua forma del viso ricordati sempre che la forma del tuo viso è molto importante per l'esecuzione di un taglio se tu hai il viso rotondo non posso farti un carré quindi non chiederlo al tuo parrucchiere il tuo viso sembrerebbe ancora più rotondo ci sono dei piccoli accorgimenti che solo tramite una corretta consulenza che ti fanno possono ovviare a tutte queste problematiche per cui la conoscenza della pelle fondamentale tu dirai ma la pelle che cosa c'entra col taglio è fondamentale la conoscenza della pelle perché se la tua pelle si ingrassa tanto se la tua pelle non produce un capello sano automaticamente anche il tuo taglio non rimarrà a posto nella maniera corretta la forma del tuo viso per dirci se quel taglio ti sta bene o meno la conoscenza della struttura del tuo capello non posso crearti un taglio se la struttura del tuo capello non me lo supporta nel tempo ma non quando te lo faccio io non quando te lo facciamo noi tua casa le regole per un corretto taglio sono la gestione quotidiana tua casa per non avere le problematiche che ti ho appena elencato ricordatelo quando vai a farti tagliare i capelli ricordati forbici a lama piena ricordati che ti facciano una consulenza se vuoi cambiare taglio se vuoi semplicemente una spuntata poco importa ma se devi cambiare il tuo taglio il tuo look ricordati che ci sono delle regole da seguire se il tuo parrucchiere non le segue non avrai un taglio che ti starà bene non avrai un taglio che potrai gestire tu a casa soprattutto non avrai un look sarai e avrai un taglio come tanti altri se vuoi dei consigli se vuoi sapere quale look può starti bene se vuoi sapere quale taglio è indicato per il tuo viso e soprattutto per la tipologia del tuo capello contattaci 0371-8989-00 oppure 340-9973-923 prendiamo un appuntamento ti facciamo una consulenza ti spieghiamo tutto quello che è il look per te e poi deciderai tu spero di esserti stata utile vai a vedere tutte le altre nostre dirette se ti interessano c'è il titolo c'è il titolo che ti interessa di più e guardalo sia su youtube instagram qua su facebook e adesso anche su tiktok voglio fare un saluto alla mia amica Roberta e a sua figlia da suami gli mando un bacione ciao a tutti e ci vediamo nella prossima diretta ciao a tutti